Un'iniziativa di Sinistra Anticapitalista Roma che vuole contribuire a un'informazione critica su ciò che sta accadendo ormai da due anni nella regione kurda del Rojava, in particolare nell'area più esposta al conflitto che è il cantone di Kobane. I kurdi quindi da circa due anni hanno avviato una eroica resistenza contro milizie legate al regime siriano, contro milizie islamiste come al-Nusdra e da 16 mesi a questa parte stanno conducendo una resistenza molto difficile contro l'Isis. Proprio a tale riguardo vorremmo approfondire sulla nascita e l'evoluzione tra virgolette dell'Isis. Esso è un ruolo che in esso hanno avuto i paesi della Nato e paesi alleati come la Turchia. Sul modello politico e sociale è sperimentato nel Rojava, un modello democratico basato sulla parità di genere, l'integrazione e la partecipazione tra le diverse etnie è un modello che fa paura alla Turchia che dal confine sembra temere più il diffondersi di un modello di questo tipo che è l'avanzata dell'Isis stessa. E poi, terzo ma non ultimo per importanza, il ruolo delle organizzazioni marxiste nella resistenza. I media italiani hanno fatto più o meno consapevolmente molta disinformazione su questa questione, spesso confondendo anche i ruoli, parlando indistintamente delle organizzazioni della resistenza o di Peshmerga in maniera molto confusa. A tale riguardo stasera saranno i nostri ospiti Ilmaz Orkan del Kurdistan National Congress, Askar Kirmidzigul della Fondazione Internazionale delle Donne Libere Kurde, Fuad Roeya, giornalista Siriano e condurrà l'intervista Checchino Antonini, giornalista e fondatore di Popoff Quotidiano.it. Dopo una relazione dei nostri ospiti invitiamo tutti e tutti a partecipare al dibattito. A questo punto lasciamo la parola a Checchino Antonini che condurrà l'intervista. Grazie Gianpaolo, grazie a tutti. Io comincerei proprio da Ilmaz Orkan perché secondo me è importante cominciare da sapere che sta succedendo adesso a Cobane, come va la resistenza, come va la guerra. Buonasera a tutti. Comunque quella resistenza di Cobane continua quasi 66 giorni perché sicuramente è cambiato tante cose rispetto a 66 giorni fa, però ancora conflitto continuo. Ma secondo me per un po' capire bene sia ISIS perché attacca Cobane, anche autonomia che è Rojava o kurdi. Anche quelli paesi che appoggiano specialmente ISIS, che sono? Perché appoggiano? Se facciamo un po' background sarà meglio perché comunque kurdi solo non vivono in Siria oppure a Cobane. siamo un popolo che è di Mesopotamia, un popolo noi diciamo indigeni perché non siamo arrivati in altra parte del mondo in Mesopotamia. Sempre eravamo lì, però purtroppo sempre avevamo problemi con tantissimi imperi. L'ultimo imperio era l'imperio ottomano e quando prima la guerra mondiale ha sciolto questo imperio con trattamento lozano, geograficamente Kurdistan diviso quattro parte. Grande parte Kurdistan in Turchia, di più 20 milioni, 21, 22 milioni di kurdi vivono in Turchia. All'altra parte anche Iran, Iraq e Siria. Almeno adesso abbiamo 3 milioni immigrati anche in paesi occidentali, anche ex paesi sovietici, qualche paese di Medio Oriente come Lubano. Tutta quella cosa sempre per quegli conflitti che diviso quattro, tantissimi rivelli per avere i loro diritti sia in Iraq, sia in Turchia, sia in Iran. Tutte quelle parti è successo questa cosa. Però purtroppo dopo quello trattamento lozano, quegli paesi colonialisti, specialmente Turchia, Iran, Iraq e Siria, sempre avevano un contratto che nessun paese non voleva dare diritti kurdi. Per quello sempre muovevano insieme tutti quelli quattro paesi. Di più, anche purtroppo paesi occidentali, paesi ex Unione Sovietica, sempre è successo questa cosa perché nessun paese non volevano appoggiare kurdi che possono avere i loro diritti, oppure se vogliono creare il loro Stato. Comunque per una nazione, questo non funziona vuol dire? No, quello funziona con gli Stati. Ah, ok. Comunque, diciamo che i kurdi, quando volevano i loro diritti, sempre è successo questa cosa. Tantissimi popoli, tantissimi paesi, tantissimi colonialisti avevano interessi sempre in kurdi. Per questo motivo, sia destra, sia sinistra, sia paesi colonialisti, come abbiamo detto, la monarcia iraniana, oppure irachiana, oppure siriana, oppure oligarchia turchia, non volevano dare mai diritti kurdi. E quelli ribelli che sono successi prima, diciamo, anni 80, perché è iniziato tutti i ribelli kurdi da, diciamo, 918 fino sempre 39, tutti i ribelli kurdi in Kurdistan. E quello ribello di PKK, questo è l'ultimo, perché altri erano, grande parte sono partiti classici come PD Kurdistan-Rakheno, PD Kurdistan-Turchia, PD Kurdistan-Siria e anche Iran. Purtroppo quelli partiti classici, vecchi, non potevano creare un bel progetto, anche non avevano un appoggio che possono creare il loro paese. E questo secolo comunque è finito così, perché quello secolo, se una nazione vuole diritto, allora doveva creare un stato-nazione. Il progetto era così. Invece adesso, XXI secolo, secondo noi già anche il progetto stato-nazione non risolve problemi etnia, religioso, specialmente in Medio Oriente, perché quando parliamo Medio Oriente tantissime realità, minoranza, religiose, eccetera. Per quello, subito, il nostro Presidente Abdullah Öcalan ha chiesto che per risolvere il problema kurdi si può creare un'autonomia democratica per tutte e quattro parti, invece per Kurdistan generale un confederalismo democratico. E su questa cosa, sia la parte teoria, anche la pratica adesso succedendo in autonomia Rojava, Covani, Cisdre e Afrin. Perché senza conoscere altra realtà, senza conoscere altri popoli, oppure senza rispetto a altri religiosi, non è possibile che vivere insieme e creare un progetto di convivenza in Siria, anche in Iraq, in Turchia e in Iran. E per questo motivo, subito, annunciato questo progetto in Rojava, due anni fa, 19 luglio 2012, loro hanno annunciato l'autonomia democratica di Rojava. Rojava è una parola, lingua kurdo, vuol dire occidente, perché Kurdistan abbiamo detto quattro parti, Rojava parte occidente di Kurdistan. Voi sapete com'è Nord Siria, forse. Comunque, adesso quello parte, specialmente in Cisdre, tre popoli vivono insieme, arabi, kurdi e siri. Invece, il cantone di Kobani e il cantone di Afrin, possiamo dire che il 95% sono kurdi. Invece in Cisdre non è così. 70-75% sono kurdi, altre sono diverse popolazioni, diverse nazioni e minoranze. Allora, lì, subito hanno detto che tre lingue ufficiali in Cisdre, arabo, kurdo e assiri. Assiri, sapete, è un popolo molto antico, anche loro arrivano da Storia Babilonia, eccetera. Però, diciamo, 200 prima Cristo ha sciolto il loro Stato e dopo quello Stato loro non hanno creato niente, un Stato in Medio Oriente, sempre vivevano tutto il Paese Medio Oriente, anche in Turchia, Libanon, Siria, altra parte, ma come un popolo senza diritti. E allora, gli ultimi attacchi di Isis, quando vedendo specialmente in Iraq, prima volta loro hanno iniziato attaccare i kurdi e i zidi e il popolo assiri di Ninova, Sinjar, i turcmani sciiti, anche i kurdi sciiti in Kirkuk, Jalalala. Comunque, abbiamo capito bene che quello Isis loro hanno creato forse per, contro Beceresat, contro il regime siriano, però attualmente, quando vedendo, Isis solo attacca attacca altri popoli, altre realtà, altre religiose e vuole creare un grande imperio, un califato solo sunniti in le parti Iraq, Siria, se possibile Libanon, oppure Giordania, eccetera. Comunque, questo per noi non è molto importante, anche non è interessa a noi. Quello è il loro progetto. Per il nostro progetto, le nostre zone, le Paese che viviamo noi, vogliamo sempre creare un Paese democratico e con tutte le realità. Per quella cosa, noi non abbiamo accettato mai jihadisti, non è solo Isis, anche il Nusra, anche Isis, il Qaeda, altri. Perché secondo noi, tutti questi jihadisti non sono favorevoli per Medio Oriente, oppure i popoli che vivono lì. direttamente fanno nemicizia, distruggono il Paese, la società, la cultura, civiltà, tutto. Adesso, la cosa che facendo in Kobani, purtroppo così, perché adesso quasi 15.000 kurdi vivono in Kobani, invece, quello cantone, totale, vivevano un milione di persone. Queste un milione di persone, grande parte, sono scappati, un parte in Turchia, un parte in Siria, diversi cantoni, eccetera. Allora, perché è successo questa cosa? Se Isis, solo c'era, per contro, Beshar Esad, oppure il regime Beshar Esad, perché ha attaccato Kobani? Anche i kurdi di Kobani, grande parte, sono sunniti, sono muslimani. Solo, diciamo, un piccolo percentuale, sono esidi, kurdi, zoroastri. Invece, altra grande parte, sono sunniti. Isis, sempre attacca lì, quello è un progetto di Turchia, perché dobbiamo un po' discutere anche Turchia stasera. Perché... Infatti, è una delle domande che ti faremo dopo, solo sulla Turchia. Io adesso proverei un attimo a chiedere a Quad, scusami se così facciamo diversi interventi, proverei a chiedere a Quad di parlarci dell'illusione sulla scena dell'Isis, che molti di noi hanno vissuto come improvvisa, ma che in realtà, per chi ha osservato meglio, meglio niente, non era una sorpresa. Beh, la forma che ha assunto, senza dubbio, è una sorpresa, il fatto che un simile movimento potesse nascere, invece no, non è stata assolutamente una sorpresa. Io devo dire che non concordo con l'idea che Isis sia nato per contrastare il regime di Bashar al-Assad, non concordo con questa idea alla luce di alcuni fatti, a parte il fatto che comunque il regime stesso ha infiltrato questa organizzazione e questo è stato comprovato dal ritrovamento anche di documenti, eccetera, eccetera. Però al di là di questo, c'è da dire una cosa, Isis essenzialmente nasce non tanto per volontà, quanto per colpa degli americani, per essere sinceri. Nel senso, la destabilizzazione completa dell'Iraq è alla base, prima dell'Afghanistan, ma soprattutto quello dell'Iraq è alla base della nascita di Isis. Isis nasce come Al-Qaeda in Iraq. Nasce come Al-Qaeda in Iraq e essenzialmente nasce da quella branca di Al-Qaeda più vicina, non tanto a Billah, in quanto al Zarqawi, che è un altro dei leader carismatici di questa organizzazione criminale, che è stato ucciso anch'esso, differiva da Bin Laden per il tipo di progettualità che infatti Isis segue, che è una progettualità della distruzione completa degli stati esistenti per la creazione o ritorno verso un modello fatto di un neocaliffato, una cosa di questo genere, mentre invece il progetto di califfato, sempre proposto da Bin Laden, ben o male tentava di islamizzare gli stati esistenti, quelli usciti di Saez-Pigot, per così dire. Isis essenzialmente differisce dal resto di Al-Qaeda, di cui è una figlia, essenzialmente Isis è una figlia rinnegata, è un figlio rinnegato di Al-Qaeda, tant'è vero che El-Zawahiri, l'attuale leader di Al-Qaeda, l'ha rinnegata qualche mese fa, nasce come figlio essenzialmente anche per la rapidità e la violenza con cui cerca di imporre il proprio progetto. Ed è forse questa la più grande differenza che c'è fra Isis e Cevatol Nostra oltre alla nazionalità dei combattenti, perché mentre Cevatol Nostra è costituita principalmente da combattenti locali, quindi siriani e qualche iracheno, Isis invece ha una colonna di iracheni senza dubbio, ma è costituita in buona parte anche da stranieri. Tra i suoi quadri vede anche personaggi collegati al vecchio regime iracheno, quindi anche basisti, cioè quelli, basi ricordiamo essere un partito socialista e nazionalista arabo in teoria, quindi un partito che ha fatto la laicità una sua bandiera per oltre 50 anni. Movimenti come Al-Qaeda, come Isis e questi qua nascono essenzialmente sulle ceneri del panarabbismo, un'idea in cui abbiamo creduto in tanti, mi ci metto in mezzo anch'io, ma che purtroppo ha fallito perché ha costituito essenzialmente stati dittatoriali, come abbiamo visto succedere in Iraq, come abbiamo visto succedere in Siria e in tanti altri paesi e tra l'altro una delle caratteristiche di questo panarabbismo era quella di cui ci parlava anche lui quando parlavamo dell'inizio del secolo scorso e del fatto che alle popolazioni minoritarie come i kurdi che sono una minoranza molto consistente ma sono una delle tante minoranze presenti hanno visto negati i loro diritti culturali i loro diritti di identità nel frattempo Ataturk faceva pulizia etnica in Turchia contro gli armeni contro i kurdi stessi nel frattempo in tanti altri paesi d'Europa si sono state fatte cose di questo genere oggi in Europa vediamo anche un rinascere degli orgogli delle varie identità intranazionali lo vediamo nella penisola iberica lo vediamo in altri paesi anche nella stessa Gran Bretagna che quelle che erano le culture sopite anche schiacciate all'inizio del secolo scorso ricominciano un pochino a emergere e in effetti non posso che condividere l'idea secondo cui lo Stato-Nazione non è non è il modello vincente probabilmente non è neanche per l'Europa ma sicuramente non lo è per per il Medio Oriente la Siria di cui io mi occupo principalmente è composta da 24 differenti componenti che si differenziano per loro spesso per differenze religiose tra l'altro piuttosto modeste a qualche volta con differenze un po' più nette la popolazione kurda ha una sua lingua ha una sua cultura è una nazione differente rispetto a quella maggioritaria in Siria che comunque è araba di conseguenza c'è questo a fronte di quella che lo scrittore giornalista libanese chiamava l'infelicità araba qualcuno conosce perché è stato ucciso in un attentato con ogni probabilità anche essordito dal regime siriano Samir Qassir è stato ucciso se non sbaglio nel 2005 più o meno in quel periodo lui parlava appunto del fallimento del panarabbismo con il fallimento del panarabbismo l'alternativa che si presentava di fronte alle masse arabe era quella dei movimenti islamici ora la gran parte dei movimenti islamici autoctoni fanno riferimento in realtà alla fratellanza islamica che è cosa ben diversa da Al Qaeda in Palestina Hamas i fratelli musulmani in Egitto i fratelli musulmani in tanti altri paesi anche in Giordania in Siria in Siria furono i protagonisti della più grande intifada contro il regime siriano quella dell'82 quando il padre dell'attuale dittatore non esitò a spazzare via decine di migliaia di persone in pochi giorni in una settimana circa nella cittadina di Hama nella cittadina di Hama sempre nel nord della Siria ma nella parte nord occidentale mentre invece l'area kurda siriana è la parte nord orientale quindi l'ovest del Kurdistan in realtà è l'est nel nord est della Siria il progetto del Rogiava è un progetto estremamente interessante io ho avuto il piacere di leggere la costituzione che si è data a quest'area un'area che appunto come veniva detto è costituita da tre cantoni di cui due abbastanza omogenei composti quasi esclusivamente da kurdi mentre invece uno un po' più composito sicuramente fra le costituzioni dell'area è probabilmente uno degli esempi più avanzati se non il più avanzato l'unica che include principi di ecologia oltre che di parità di genere al suo interno e anche su questo ci arriviamo fra un attimo noi vogliamo sapere se c'è proprio un telegrafico su un livello di consenso locale nei confronti di ISIS o se invece viene subito da tutte le popolazioni allora questa è una cosa dinamica questa è una cosa dinamica cercherò di essere estremamente sintetico inizialmente ISIS è stata rigettata in modo integrale a differenza bisogna dire che col passare del tempo ISIS è stata in grado di garantire nelle aree che controlla un livello di servizi parlo di acqua elettricità di cose di questa natura superiore rispetto a quanto non siamo riusciti a fare buona parte delle forze di opposizione siriana per così dire moderate questo anche grazie a una maggior capacità economica e questo ha costituito una piccola base di consenso forstrettamente minoritaria ma che comunque non si può ignorare oltre a questo i recenti attacchi americani hanno avuto come principale effetto quello di far percepire l'Occidente e gli Stati Uniti in particolare come alleati del regime siriano e quindi uno spostamento di parte della popolazione anche essa verso i movimenti islamisti in generale e quindi in parte anche verso lo stesso Isis la stessa Cia Badon-Nusra che per quanto non mancasse di difetti anche prima ha estremizzato i propri comportamenti e mentre prima rimandava a un dopo l'islamizzazione della società a un dopo la fine della guerra adesso invece inizia a comportarsi proprio come Isis sui territori che controlla di conseguenza in questo momento questa è la dinamica a cui stiamo assistendo d'altra parte però anche una piccola goccetta di speranza va messa comunque sia questi attacchi statunitensi hanno dimostrato una buona parte della popolazione l'impossibilità di contare su aiuti esterni per quanto riguarda la liberazione della Siria da parte di tutte le dittature cioè di tutti gli estremismi la dittatura di Assad e gli estremismi islamici quindi ha fatto crescere la voglia di un ritorno verso quell'attivismo civile in largissima parte non violenta che ha animato i primi otto mesi della rivoluzione siriana ti ringrazio adesso chiederei a di iniziare a parlare di un altro che ci interessa moltissimo che è il che è il che è il ma vicino a me che è il ruolo delle donne noi l'abbiamo vista combattere sicuramente un'immagine che non abbiamo mai visto negli scenari mediorientali sappiamo che ci hanno anche un ruolo politico inedito in quella parte di Medioriente per cui comincia appunto a parlarci di questa roba ben da herkese selamlıyorum öncelikle şuanda Orta Doğu da Isis'in saldırılarını konuşuyoruz biz Kadın Hareketi olarak Isisi kapitalist-modernite in vurucu gücü olarak tanamladık prima di tutto saluto anche tutti quanti adesso stiamo parlando degli attacchi di Isis noi come movimento delle donne vediamo combattiamo Isis come forza kapitalista ve bunun karsında da savaşan IEPG güçleri var aslında orada Orta Doğu da şuanda cattışan iki sistem var birisi kapitalizmin esas temel noktası olan erkek egemenliğine yarattmak isteyen esas ceybolan Isis ve onun karsında da kadın özgürlüğüne dayanan bir paradigma ya dayanan kadın ordu suyada kadın sistemi var Rojava da c throat in Rojava adesso ci sono le pièce che combattono con le armi contra ISIS ma ci sono due sistemi contrapposti che combattono uno è quello del capitalismo dell'egemonia maschile e l'altro è quello di un movimento che lotta per la liberazione delle donne tabibu asciamaya kadar gelene kadar yani kadının bir sisteme kurmas nakadar kirk il luk bir tegri be var ortada e in tutto questo però c'è una lotta per la liberazione delle donne che va avanti da più di 40 e bu hani çok 40 yıllık mücadeleyi böyle bir kısa bir sürede anlatamayız ama esas olan şu Kürt Halk Önder Öcalan yani başkanımız özellikle toplumun değişmesi yani toplumun sadece değişimini bazı işte klasik teorilerde değil esas olarak toplumun kör düğümünün kadında kadın özgürlüğünden geçtiğini tespit etti ve ilk kez bunu 1986 da kadın çözümlemeleri yaparak analizler yaparak değiştirdi e purtroppo adesso non possiamo spiegare in così poco tempo 40 anni di lotta e di ideologia del movimento delle donne kurde ma possiamo dire che tutta questa ideologia ha avuto origine in quella che è stata l'analisi di abdullao jalan il presidente del pkk il nostro presidente che nel 1986 ha iniziato un analisi in cui spiegava come la liberazione della società dovesse partire dalla liberazione della donna ve kadın özgürlüğünün sadece çünkü kadın sistemin bütün saldırlarına karşı savunmasız durumda di kurt kadına eğer gercekten sistemi değiştirme kisiyosa erkege gemel sisteme karşı mutlaka kendi savunmasına oluşturmalıydı e questo questa ideologia parte dal fatto che se si vuole cambiare il sistema se si vuole eliminare legemonia maschile per prima cosa la donna deve liberarsi e deve proteggersi bu non icin de sadece gerilla icerisinde bir işte temsil olarak değil de kadın ordulaşmasına gündeme koydu yani kadın ordusunun oluşmasına bin dokuzdoksani kilalında jalan nel 1992 quindi si creano non soltanto un gruppo di autodifesa quindi le guerrigliere kurde ma un'organizzazione con le proprie rappresentanti delle donne nel 1992 ve kadınlar ayrı birlikler şeklinde örgütlediler örgütlendiler ama bu sadece bir savaş yani yürü savaş sadece pratik olarak Türk devletine karşı yürütülmüyordu aynı zamanda topluma ve eee hani eee gerilla içerisindeki erkek egemenliğine karşı da bir savaş yürütüldü ve eee kadınlar eee iki yönlü yani teorik olarak da kendilerini erkek egemen sistem karşısında özgün eğitimlerini yaptılar yani kadınlar olarak aynı zamanda mücadeli de ettiler yani e le donne si organizzarono in tutta a tutti i livelli quindi non soltanto dal punto di vista dell'autodifesa attraverso la guerriglia ma in tutte le da tutti i livelli della società e si organizzarono sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico e quindi anche all'interno della guerriglia esistevano momenti di formazione e momenti di analisi per capire e imparare come si potesse lottare contro leggemonia maschile quindi e sia attraverso la lotta in turchia contro lo stato ma sia anche dal punto di vista teorico ve 20 98 yılında il kes kadın kurtuluş ideologisi ne gündemize girdi başkanımız sayesinde nel 1998 o gian per la prima volta parlò di una teoria della liberazione della donna ve bin dokuz doksan dokuzda da kadın partileşmesi e nel 1999 si creò per la prima volta un partito delle donne kurde e durante tutto questo periodo ci furono tantissime donne che guidarono questa lotta fra di il 9 gennaio del 2013 ma non soltanto lei c'erano due donne nella tra i fondatori del pkk ma tantissime altre donne che sono state martire comunque hanno guidato questa lotta yani önderliğimiz 2005 den itibaren yeni bir sistemin sistemin karsina yeni bir paradigma oluşturmaya çalıştı bunun teorik çalışmalarında kendi kadrolarına anlatmaya çalıştı nel 2005 o gian creò un nuovo paradigma per la liberazione del popolo kurdo e cerca di spiegarlo e di condividerlo con i cadri del partito bu paradigma non esasi şudur yani demokratik ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplumu yaratma alla base di questo paradigma c'era la cinsiyet demokratik ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü la demokrazia l'ecologia e la libertà di genere bu bu paradigma sadece yani kadınları ilgilendirmiyor dolayısıyla bu paradigma göre biz de kendi örgüsel sistemizi değiştirmek zorundaydık yani kendimizi buna göre şekillendirmek zorundaydık e questo paradigma non riguardava soltanto le donne ma riguardava la il cambiamento dell'organizzazione del pkk dal suo interno ve biz iki bin beşten itibaren kadın sistemini de oluşturduk kurdistan şu anda bu yıl yani son olarak kurdistan kadınlar toplulu kejke olarak ismini koyduk bunun si creò una un sistema delle donne in kurdistan che si chiama kejke e significa comunità delle donne del kurdistan nel quale diciamo viene messo in pratica quello che è questo paradigma bu sistemin bir aya toplumsal alan yani toplumsal alanda kadınların örgütlenmesi ilgilendiriyor da una parte questo sistema serve all'organizzazione delle donne nella società bir diğer ayağı kadın ordulaşmasına dayanıyor ki bu sizin bildiğiniz yepeje ve yeja star da kapsıyor kadın ordusu un altro rado è quello dell'autodifesa da parte le donne quindi la creazione di movimenti di guerriglia di sole donne che sono le yepeje in rojava e le yeja star in turkia nel pkk bir diğer ayağı da kadının ideolojik olarak e itilmesine ve ideolojik olarak kadın kurtuluş idolojisine göre kendi militanını oluşturan pask oda kadın partisidir e dall'altra parte il partito delle donne si occupa della formazione delle donne dal punto di vista ideologico işte bütün bunlar aslında şuanda kadın sistemi e nasıl ki bizgiuruski top yeni paradigma mus bir sistem haline gel meli bis kendici mizde bono usturdukama rojava da kadın özgürlüne deyala bir sistem var şuanda somutlaş mister quindi come abbiamo detto che questo paradigma deve essere messo in pratica nella nostra organizzazione per faremo che questo sistema esista in questo momento in rojava questo paradigma è messo in pratica rojava e sadece evet yani democratic özelliktir ya da democratic ulusun cekillenmesi e olarak tanamnıyoruz rojava sistemini biz in questo momento in rojava esiste un'autonomia democratica questo è il sistema che noi conosciamo che c'è in rojava in questo momento ama hepsinin temelinde de esas olarak kadın özgürlüğü var yani orada oluşturulan toplumsal sözleşmenin temeli kadın özgürlüğüne dayaneo nel contratto sociale di rojava che questa costituzione che hanno che è stata creata che sarà scritta nel rojava la alla base c'è la liberazione della donna ve mesela kadının bütün yönetimde yani bunu işte klasic anlamda iktidarı ele geçirmek ya da bir devletin başına geçmek sözcüsü olmak olarak algılamıyor kadın kendi yaşamı hakkında söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz yani klasik anlamda biz iktidarı ele geçirelim erkekten iktidarı alalım bu sefer kadınlar hani söz sahibi olsun değil esas olarak biz yönetimde yani kadının kendi yaşam hakkında kendisinin karar vermesin istiyoruz noi non pensiamo che le donne debbano liberarsi dall'uomo combattendo contro lo stato contro liberandosi soltanto liberandosi dall'uomo e che debbano liberarsi dal proprio interno cambiare il loro comportamento cambiare il loro modo di pensare di vivere in questo modo prendere le proprie decisioni da sole bu yüzden de rojava da yani bir mahalle den başlayarak komün sistemini oluşturduk ve bu komünler içerisinde en fazla kadınlar yer alıyor yani söz sahibi per questo motivo en rojava partendo da dai quartieri abbiamo creato delle comuni e in queste comuni dal dal basso tutta l'organizzazione verso l'alto in questa organizzazione hanno la cui prendono guidano tutti i gruppi diciamo le donne in particolari dell'organizzazione sociale mi vorrei parlare tra un po' adesso vorrei ripassare la parola a il maz se intanto grazie a tutti quelli che rispondono per attenersi ai tempi perché volevo provare a continuare a parlare dei nuovi paradigmi quindi degli altri pilastri che lei ha soltanto accennato quindi l'economia sostenibile e delle esperimento che si sta portando avanti in turchia di un soggetto politico che tenga dentro le minoranze i movimenti sociali comunque apriamo il progetto un po tocchiamo le cose perché tutto il progetto raccontare non è possibile però le cose un po fondamenti per il progetto possiamo discutere anche turchia perché contro questo progetto un po voglio spiegare perché l'autonomia di rojava loro hanno creato su quattro le gambe uno come si può risolvere problema di etnicità anche religioso come si può vivere insieme diciamo perché come abbiamo detto prima in medio oriente senza rispetto oppure senza conoscere altro idea altra realtà non è possibile anche creare la democrazia libertà e convivenza per questo secondo me tramite nostro progetto è capitalisti anche la differenza questa loro sempre giocano su etnia l'identità sono religiosa invece noi cerchiamo come possiamo vivere insieme con un progetto allora adesso abbiamo creato questa cosa in rojava il secondo gambe quello femminismo che lei è un po spiegato però non è un femminismo classico come sappiamo anche qui altre parti del mondo un femminismo che come si può gestire insieme il paese come si può diciamo creare tramite le donne e uomini una uguaglianza comunque quella cosa se lei parla meglio un gambe anche questa cosa il terzo l'autodifesa l'autodifesa senza autodifesa un popolo non può vivere in medio oriente perché abbiamo visto già sinjar non aveva un l'autodifesa quando si è stato attaccato subito eh ucciso tantissime migliaia di persone migliaia di emigrati scappati il paese anche a siri anche altre però quando vedendo in cobanio un piccola città una piccola cantone 66 giorni che attacca eh ancora gente resiste iepeghe iepeghe anche non è solo iepeghe iepeghe anche c'è popolo che proprio vivano lì una difesa popolare anche eh per quello secondo noi importante che eh specialmente popoli come curdi come noi per forza dobbiamo avere l'autodifesa eh l'ultimo appunto questo una economia sociale ecologico eh in europa dicono politica sociale questo è un'altra eh cosa però eh noi diciamo una economia sociale anche ecologista perché secondo noi eh educazione sanità eh la casa cibo vestiti questi tutti sono diritti fondamentali per tutti i cittadini non è che un cittadino deve eh pagare per studiare in università a scuola oppure andare a ospitare curare oppure avere una un letto una casa oppure mangiare acqua per esempio questi secondo noi sono diritti fondamentali per quello chiamiamo una economia sociale deve essere ecologico perché eh questo mondo eh se così continuo eh con quelli specialmente Turchia che fa in Kurdistan eh tra 40 anni ha creato di più 100 dighe sul territorio Kurdistan proprio distrutto il paese adesso cercando creare eh oppure costruire qualche centrale di energia nucleare eh già abbiamo visto in l'Ucraina in Cernobil che è successo quello per quello siamo contro queste sia eh la dighe sia l'energia nucleare eh perché non non dobbiamo usare l'energia rinnovabile per esempio per quello chiamiamo anche ecologista e allora adesso eh questi eh quattro punti eh secondo me eh eh minacciano anche tanti sistemi in Medio Oriente come Arabia Saudita come Kuwait come Iran eh come Turchia eh anche altri paesi eh non parliamo Siria perché Siria non esiste come un regime si c'è un Beshar Esad eh però secondo me eh solo eh lui può eh difendere sua casa perché abbiamo visto che eh sessantasei giorni che eh giardisti attaccano eh cubani eh se lui presidente del paese eh allora doveva difendere kurdi lì però non eh può fare niente perché lui non di più presidente di paese anche non c'è un eh secondo noi eh governo stato in Siria un paese che eh eh proprio distrutto adesso serve eh eh creare una nuova grande opposizione per creare un nuovo paese democratico siriano eh altri paesi quando vedendo Iran eh normalmente Iran sono contro sunniti sono sciiti perché quello la guerra quella lotta tramite due setta come sciiti sunniti sappiamo già anni da anni c'era questa cosa tramite imperio persiano ottomano sempre era quello eh conflitto eh però eh però eh quando vedendo che quello ISIS attacca eh tutti eh i popoli intorno loro non dicono niente perché vogliono che distrugge l'autonomia di Rojava anche iraniani perché se eh Rojava tiene un riconoscimento internazionale vuol dire che anche Iran deve dare tutti i diritti i popoli che adesso vivendo in Iran che è un paese 80 milioni e 20 milioni sono persi e farsi altre eh 60 milioni sono diversi popolazioni come Azeri, Kurdi, Arabi, Bellugi eccetera eh altra parte Kuwait e Saudi Arabia eh per loro anche due grandi problemi uno che eh le risorse sul territorio secondo noi deve dividere tramite i cittadini non è che un re o un sceco deve avere tutti quelli petrolio, gas e mangiare con sua eh sua famiglia altri cittadini eh muoiono eh da povertà diciamo eh un'altra cosa abbiamo parlato femminismo e questo anche da paura perché ognuno ha sessanta mogli eccetera una vita eh così eh secondo noi è una vita bruttissima però eh loro eh vivono così e allora quello sistema eh quello progetto tutti quelli paesi e quelli sistemi anche minacciano Turchia specialmente eh diciamo qualcosa perché eh anche abbiamo in Turchia una problema eh kurdi abbiamo detto che 20, 21, 22 milioni di kurdi vivono in Turchia ancora noi non abbiamo niente o un diritto in Turchia per usare la nostra lingua per gestire la nostra regione per eh identità politica e anche culturale e allora se eh eh Rojava tiene un riconoscimento internazionale anche eh Turchia deve dare questa autonomia a kurdi in Turchia di più questa cosa anche di più eh 4 milioni arabi vivono in Turchia non è solo kurdi altre popolazioni vivono in Turchia eh Turchia deve eh anche proprio eh fare una trasformazione del regime oligarchico e per quello motivo tutti quelli paesi purtroppo eh finanziano ISIS eh danno logistico eh se anche fa tutti quelli massacri loro non eh fanno niente non dicono niente eh la cosa è cosa che possiamo dire su questa domanda questa sì no volevamo anche sapere l'ADEP che ha messo insieme eh tutte le minoranze linguistiche anche i movimenti sociali sì sì perché quando abbiamo parlato eh il progetto non è solo per Rojava oppure per Siria anche per Turchia eh abbiamo lo stesso progetto e allora abbiamo fatto una coalizione eh tramite tutti eh realità che sono pronto per eh combattere il eh sistema in Turchia il sistema oligarchico e per quello tantissimi partiti e movimenti sociali sono entrati eh eh nel questo partito HDP si chiama eh partito democratico i popoli si chiama eh anche eh con questo partito abbiamo creato un congresso eh lo stesso eh il congresso eh i popoli democratico i popoli per Turchia adesso per esempio eh abbiamo 35 deputati eh con questo partito eh abbiamo eh tantissimi religiosi e cristiani e cristiani, zoroastri, aleviti, sunniti eh anche con questa cosa diverse etnie eh abbiamo deputato a Siria, deputati turchi, deputati curdi, anche volevamo eh portare almeno un armeno eh un arabo in parlamento però quello periodo non potevamo fare speriamo che 2015 giugno eh in Turchia c'è elezione generale nazionale eh con questa coalizione secondo noi anche possiamo eh almeno eh ogni popolo ogni nazione ogni minoranza o religioso portare a un deputato eh di come rappresentante loro in Parlamento Turchia e questo progetto eh non è nato prima eh diciamo con quello Ghezi Park tanti occidentali eh conoscono conoscono Ghezi Park pensano che così eh uscito eh uscito il contrario quello progetto da anni continuo è prima volta che eh nostro deputato ha fermato quelli eh le macchine che volevano distruggere quelli parchi e così anche questa lotta è iniziato lì contro il governo di Erdogan eh però per esempio questi eh movimenti sociali che loro hanno ribellati eh li hanno fatto manifestazioni in Ghezi Park adesso loro eh danno la solidarietà il popolo kurdo siriano eh di Kobani adesso tantissimi giovani medico eccetera lavorano in campi profughi a Surge eh con eh curdi di Kobani. Grazie. Grazie. Qual è il il ruolo dell'organizzazione marxista nell'area non solo eh in in Turchia? Beh prima dicevo il fatto che comunque a fronte della morte di fatto del panarabismo che comunque rappresentava un po' il socialismo in buona parte dell'area araba e quindi eh c'è stata una crisi di quelle che sono le organizzazioni marxiste una crisi che eh paragonabile in qualche modo a quella che ha investito l'Europa dopo l'89 eh queste le rivoluzioni che hanno attraversato il mondo arabo in qualche maniera l'hanno evidenziata perché a fronte di eh elite spesso alto borghesi o medio borghesi di sinistra eh che iniziavano queste proteste si è visto come poi invece eh larga parte della popolazione abbia preferito e abbia riconosciuto come eh reali opposizioni a eh i regimi che per decenni hanno governato i movimenti islamisti. Eh questo per esempio in Siria sta cambiando anche a fronte del della amara prova che sta vivendo il popolo siriano perché a fronte eh senza prendersi in giro eh all'interno del delle opposizioni siriane ci sono vari gradi di eh di di movimenti che vanno da appunto quelli marxisti come la corrente ci sono varie correnti marxiste anche all'interno dell'opposizione siriana fino a eh i più estremi movimenti islamisti e fino a quelli addirittura che si riconoscono addirittura nella politica di Al Qaeda e mi riferisco a c'è per il nostro che per quanto eh sia sempre più al di fuori del del fronte rivoluzionario siriano per lungo tempo ne è stata parte integrante e sicuramente dal punto di vista militare eh ne ha fatto parte e nel sud del paese continua a farne parte eh attualmente c'è un'inversione di tendenza appunto perché queste organizzazioni dove hanno controllato eh aree del paese delle aree del paese hanno dimostrato eh tutta la loro inadeguatezza alle sfide della modernità eh tutta la loro incapacità di garantire quelli che erano eh i principali sogni dei siriani di rispondere a questi a questi sogni andando a ricostituire eh dei sistemi comunque sia tutt'altro che libertari mentre invece eh quelle che erano le parole d'ordine della rivoluzione siriana la prima è senza dubbio la dignità al di ancora prima della libertà quello che chiedevano i siriani della dignità e su questo chiaramente vorrei fare anche una piccola parentesi non esiste dignità senza autodeterminazione il che vuol dire che dalla dignità deriva anche necessariamente il pluralismo un un siriano kurdo non può avere la propria dignità se non può parlare la propria lingua se non ha la cittadinanza come tutti gli altri per fare un esempio e eh dopo dopo la dignità la seconda parola era la giustizia sociale ancora prima di libertà anche quella sono le parole d'ordine classiche classiche della del marxismo della sinistra mondiale e eh i movimenti islamisti per quanto talvolta abbiamo utilizzato le stesse parole non sono stati in grado assolutamente di metterle in pratica lì dove hanno governato nella migliore delle ipotesi nella migliore delle ipotesi hanno comunque stabilito un sistema tutt'altro che libertario e mi riferisco per esempio alle periferie di damasco dove un movimento come il fronte il fronte islamico che è un movimento essenzialmente militare ma anche una branca politica non non garantisce certo un alto livello di libertà e questo lo dimostra per esempio il rapimento di persone come Rezan Zaitune l'avvocatessa siriana eh che è uno dei simboli della rivoluzione che è scomparsa verosimilmente appunto per mano del fronte islamico in un'area comunque controllata dal fronte islamico eh comunque sia i movimenti marxisti interni alla siria hanno avuto un ruolo soprattutto nei primi mesi e stanno riconquistando un ruolo appunto dopo che i siriani purtroppo hanno assaggiato l'amaro calice del del eh dei movimenti islamisti eh stanno riconquistando un quanto incidono più o meno nel senso sono dal punto di vista militare dal punto di vista militare dal punto di vista militare dal punto di vista politico dal punto di vista militare sono effettivamente molto minoritari perché sono i meno finanziati in assoluto eh prima si parlava di chi finanzia chi eccetera eccetera si discuteva di chi finanzia ISIS chi finanzia l'opposizione militare in Siria bene il siriano medio anche se è marxista se vuole è anche solo sperare di potersi opporre con un minimo di efficacia al regime di Bashar al-Assad deve farsi crescere la barba e non bere in pubblico perché in tal modo forse avrà due spicci qualche polpettina avvelenata dall'Arabia Saudita dalla Turchia o forse dall'Iraq cioè dall'Iraq scusatemi dal Qatar e da tutte queste eh nazioni tutti questi stanzi non nazioni tutti questi stati che hanno falsamente eh detto di sostenere la rivoluzione siriana ma è credibile l'Arabia Saudita come sostenitrice di un movimento per la democrazia? È credibile un paese dove in effetti esiste la schiavitù per quasi tutta la mano d'opera presente nel paese possa che possa sostenere un movimento però democratico è credibile che possa essere il Qatar? La Turchia certo non ha un regime drammatico come quello dell'Arabia Saudita ma comunque sia la Turchia che fa quello che fa i kurdi che fa quello che fa le minoranze che reprime i movimenti sociali come abbiamo visto a Gacy Park è un credibile partner per un movimento che pro democratico è chiaro che queste tutte queste potenze tutte queste eh cercano di finanziare semplicemente come fa qualunque stato per tirare acqua il proprio mulino ogni finanziamento è subordinato al seguire un un'agenda eh questo è ciò che per esempio ha per esempio alienato eh in parte la resistenza siriana araba da quella kurda attualmente noi abbiamo eh nel Rojava combattevano fin dai primi giorni dell'attacco dell'ultimo attacco di ISIS 300 combattenti arabi a fianco ai kurdi che erano i 300 combattenti arabi abitanti della zona che erano già lì dopodiché però l'esercito libero eh ha deciso di eh inviare altri combattenti più o meno 1300 se non sbaglio una cosa del genere al momento in cui c'è stata questa decisione in quel momento avevamo la Turchia che bloccava l'ingresso di combattenti del PKK all'interno di Rojava da una parte mentre consentiva l'ingresso dei Peshmerga che erano sempre kurdi ma diversi e pure qui forse ci sarebbe da fare una parentesi d'altra parte consentiva ai combattenti dell'esercito libero di passare attraverso il suo territorio per entrare in Rojava risultato chiaramente i kurdi con che combattono in Rojava interpretano la presenza di questi combattenti dell'esercito libero come di pedine della Turchia anche dall'altro dall'altro lato nel frattempo Aleppo è sotto assedio attaccata dal nord da Isis dal sud dal regime nel momento in cui l'esercito libero manda qualcuno a combattere nel Rojava si viene interpretate anche lì oddio lasciano le posizioni dove siamo sotto assedio per andare a difendere i kurdi allora sono servi degli americani purtroppo le influenze e tutti quanti quelli che sono stati supporti esterni alla rivoluzione siriana a tutto quanto hanno un portato di veleno ogni ogni finanziamento è un boccone avvelenato pesantissimo e c'è da dire che i movimenti marxisti europei hanno fallito completamente nel cercare di capire quello che sta avvenendo in Medio Oriente non sono stati in grado di riconoscere i movimenti rivoluzionari non parlo di questo movimento in particolare di sinistra anticapitalista o di sinistra critica ma mi riferisco alla gran parte dei movimenti della sinistra europea che hanno che hanno invece accusato le sinistre siriane di essere in realtà al soldo chi degli stati uniti chi del qatar eccetera eccetera noi riconoscendo un movimento di popolo ce ne abbiamo visto delle manifestazioni con centinaia di migliaia di persone anche nel Rojava fin dal 2011 c'erano manifestazioni con questa bandiera che sventolava a fianco a quella dei curdi ho visto delle foto quando c'è stata la manifestazione qui per Cobane qui a Roma io mi ricordo quel giorno sulla sull'evento su facebook ho postato una foto di una manifestazione esattamente di due anni prima sempre a Cobane questa volta con la popolazione di Cobane che scendeva sventolando questa bandiera la bandiera curda e le bandiere anche del partito che io amerei distinguere dalla popolazione curda perché questa è un'altra un'altra questione che sventolavano insieme che sventolavano insieme chiedendo una cosa dignità giustizia sociale libertà poi tra le altre cose il Rojava ha avuto la fortuna di riuscire a poter andare un po' avanti nella sua nel suo tentativo democratico in parte anche grazie a tutto il portato della resistenza che i curdi hanno offerto ricordiamoci che i curdi la prima volta che si sono recentemente si sono ribellati contro il regime di Assad nel 2004 non tanto tempo fa in Turchia sono i loro partiti clandestini il loro pensiero guardate là il pensiero dei curdi si è strutturato hanno avuto la possibilità di partire da una base strutturata e hanno evoluto quella la società civile siriana non la componente curda il resto della società civile siriana non aveva questa possibilità c'era la dichiarazione di Damasco nel 2005 ma di base noi siamo stati schiacciati sotto il tallone del regime con una forza superiore da un certo punto di vista nel senso la popolazione curda aveva ancora meno diritti rispetto al resto però non eravamo ancora più controllati non avevamo lo sfogo lo sfogo del partito clandestino in Turchia non c'è non c'è stata la regione autonoma curda dell'Iraq dove comunque hanno c'è stata qualche possibilità in più per i curdi di organizzarsi nonostante questo fin dall'inizio della rivoluzione siriana lì dove è stato possibile i siriani hanno cercato anch'essi di tentativi di autogoverno tentativi di creare esperimenti democratici la stessa Raka che attualmente è la capitale siriana del califato era sotto il controllo di Jabhat al-Nosra prima di che fossi ci fosse il stesse eccetera eccetera Jabhat al-Nosra fu messa fuori dai confini della città dalla popolazione quindi all'interno c'erano solo civili e il consiglio comunale di Raka era civile a Edleb sono riusciti addirittura a fare delle elezioni libere in questo momento mentre parliamo a Dara nel sud del paese al confine con l'entità sionista con e con la Giordania in questo momento due terzi della città sono liberati in quei due terzi della città la popolazione sta mettendo su dei nuovi consigli comunali anche questi su base democratica quello che voglio dire è che non solo il progetto che abbiamo visto nel Rojava è compatibile con i progetti dei rivoluzionari siriani ma è similare per tante cose probabilmente è più strutturato per i motivi che elencavo prima anzi non probabilmente è più strutturato per i motivi che elencavo prima tuttavia tuttavia noi abbiamo molto da imparare dai nostri vicini di casa curdi beh anzi dai nostri non sono vicini di casa sono di più sono nostri come dire come dire coinquilini no coinquilini sono i nostri perché non sono vicini di casa sono coinquilini viviamo insieme i kurdi in siria non sono come giustamente diceva lui non sono immigrati non sono ospiti come i cristiani non sono ospiti ci sono da sempre e lì devono stare casa loro io vorrei che lei continuasse quel ragionamento sulla vita concreta quotidiana sulla loro organizzazione dentro la vita però partendo da questa cosa c'è ancora un impasso è un impasso c'è anche un po' di qualità, e anche un po' di qualità di istituzione di istituzione. In questo senso non è facile di gestire questo sistema, ma prima vi ho detto che il PKK è un po' di qualità, sia in pratica sia in teoria. Certo, come tutti quanti hanno già detto, c'è ancora il maschilismo, perché comunque la società kurda è intrisa anche di religione islamica, e quindi comunque questa cosa è rimasta, ma il pensiero... Ma l'ideologia del PKK comunque è sempre stata fondata sulla pratica e le teorie insieme, e quindi diciamo che questo ha portato un cambiamento, un miglioramento. ... 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